Non so più cosa inventarmi per fare un intro non ho il drone non ho più niente addirittura la mirrorless in live ciao a tutti e benvenuti a secondo carpricks dell'open carterenta series 21 22 ma guardate che bella location che abbiamo qui oggi ci alterniamo io e dario a fare i telecronisti facciamo quello che riusciamo perché vabbè storia lunga sono dovuto tornare indietro perché dario dario si è dimenticato a casa i cavi adeguati e poi mancava comunque un altro cavo quindi ci siamo posizionati qua a bordo pista la mia mirrorless solo che al teleobiettivo quindi dobbiamo stare molto molto più lontani e così dai oggi me la sono sudata sono già stanco prima di salire adesso si parte si partono con le qualifiche io sono un qualche gruppo dopo e riuscirò a mantenere la leadership oggi è molto molto dura però scommettiamo scommettiamo che vince covili dai stringetemi il monitor buongiorno sembra di essere proprio in diretta dal mare comunque sono tornata la mia gopro originaria con la lente classica la max lens compatibile insomma non ha chissà che qualità soprattutto nella parte centrale delle riprese c'è sempre quell'effetto sfocato che non mi piace quindi torniamo alla ripresa classica non mi piace Grazie a tutti. Grazie a tutti. Qualifica finita, non è andata neanche tanto male, oh, mi sentivo proprio Marquez, in seguito mi spostavo, in seguito mi spostavo, però è stata bella, proprio una qualifica divertente, terzo posto e vediamo di far bene, terzo posto su tantissimi piloti, poi ve lo diciamo alla fine il numero esatto. Mi scusi, ma lei è venuto qua per far colazione? Salve, buongiorno. Cosa sei lì? Qua c'è un cappuccino direttamente dal bar Lockdown, quindi mi raccomando, buongiorno e benvenuti a questa nuova tappa del Stream Kart Speedway. Uno, due, tre. Tu dovrebbero essere discretoli. Speri. Tu dovrebbero essere discretoli. Non capisco che cos'è questo rumore. Questo fa dei ciocchi strani, questo, boom, boom, boom. Boom, 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 boom. E qua, i rumori strani. Ok, ok, oggi un pochino di stupidera e comunque gara 1 non ha registrato il GPS, ha rilevato un pochino di segnali GPS ma è assolutamente inutilizzabile. E poi, magicamente, in gara 2 ritorna tutto alla normalità. E poi, magicamente, in gara 2 ritorna tutto alla normalità. E poi, magicamente, in gara 3 ritorna tutto alla normalità. E poi, pianissimo. E poi, Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 sempre un cannone c'è questo culo hai capito che gli altri pensano sempre che sia un cannone però io mi chiedo io avevo il 5 che era buono e tu ce l'avevi in qualifica e cos'è che hai fatto io avevo il 4 e io il 5 io 45 e 0 per tutta la gara e basta quel kart lì noi ci abbiamo fatto 44 e 0 quindi vuol dire che io sono scarto che si è schiantato le barriere però secondo me le condizioni meteo era più gommata e quindi andava più forte oggi sono sfigato non dare la colpa a me oggi non è colpa tua non è rilento era la sfortuna che ti perseguita però quel bottino pieno che hai fatto arastellino ho preso anche punti qua l'importante è rimanere nel primo gruppo ha sempre lì e quindi l'importante è quello abbiamo detto prima azione si è che ora sopra non sono me lui per il passo forse io commettiamo che vince covili e vince lupi signor baglieri qua dovrà giocarsela fuori casa insomma tutta a casa tua la tana dei lupi ai 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 quindi mi sa che le prenderà di tutti i colori non lo so però prenderà dalle gambe stanasse e vincerà e se è il miglior appunto al vk i soprattutto se l'ho l'impossibile se vinci se li paghi da avere certo l'ho registrato apposta l'aria che giornata oggi oggi si è stata penso la gara con il più no non è pensare la nostra gara con il numero più alto di piloti in assoluto ben 98 piloti compreso lui quindi per due non abbiamo fatto 100 ma vabbè ok prossima volta voglio dire che abbiamo fatto il 98 piloti in sei ore con la premiazione inclusa infatti sembrava sembra una giornata infinita almeno per me però invece è volata riferimento casuale ad altre attività che si facciano nazionali che noi siamo amatoriali però gli amatoriali vedete in questo caso senza fare burocrazia enormi inutili pattume di carta abbiamo comunque fatto il 98 piloti 98 piloti gestito una live esatto video foto c'è anche da dire cioè non è il merito di tutto lo staff perché finalmente siamo riusciti a organizzarsi come cellule indipendenti quindi abbiamo gestito le foto che esistono live ben gestito le cose in pista abbiamo gestito the great girl quindi tutto e quindi sono contentissimo e va bene così adesso ci vediamo al b karting con il terzo kartrix e kartrix padova il il 14 novembre ore 14 ancora non sappiamo la data oggi giornata un po così per me gara 1 un po sfortunata gara 2 boh in gara un po così però l'importante è rimanere il gruppo 1 acquisire tanti punti per il campionato è ancora lungo direi che abbiamo detto tutto dario io sono contento e niente noi adesso ci vediamo ci vediamo tante altre gare abbiamo prima di questa quadro pop in carta dentro al siri seguiteci sempre sul sito www.futuracorso.it e mi raccomando se volete partecipare alla prossima tappa dell'open kart lenta al siris o le altre dovete scriverci per le sue mail a futura corso chioccio gmail.com open karting open karting chioccio va bene entrambi va bene entrambi va bene entrambi ok va bene entrambi e anche usate il sito perché c'è il foro su quel cavolo di sito iscrivete tramite tramite anche il sito ho detto tutto tutto direi siamo a posto ci vediamo al b karting e un salutone alla prossima su io e blog ciao Grazie a tutti.